Siamo in compagnia di Marino Perotta, responsabile organizzativo FIBA CISL per la regione Lombardia. Ormai il 2011 è concluso. Marino, vogliamo fare un bilancio dell'attività del settore organizzativo della FIBA per quanto riguarda questo anno? Diciamo che quest'anno per la FIBA Lombardia si è caratterizzata da un punto di vista organizzativo su tre aspetti fondamentali. Il primo è stato la realizzazione del progetto del bilancio sociale che era un progetto nato al congresso del 2009. Abbiamo realizzato appunto il primo bilancio sociale della FIBA Lombardia che fra l'altro è stato pubblicato anche da Consumer Forum insieme a bilanci sociali di ben più ampia portata quali per esempio per stare nel settore quello di Intesa San Paolo e del Monte dei Paschi di Siena. Dall'idea del bilancio sociale è nata poi l'idea di arrivare a fare per il congresso del 2013 il bilancio sociale di congresso. Quindi noi realizzeremo anche nell'anno 2012 e nell'anno 2013 i bilanci sociali del 2011 e del 2012 che costituiranno insieme a quello di quest'anno il bilancio sociale di congresso. L'altra cosa su cui si è caratterizzata l'attività organizzativa è stata la sistemazione del portale. Quindi abbiamo cominciato a lavorare ovviamente i lavori sono in corso però già oggi abbiamo un portale che per noi nasce non come un portale semplicemente di consultazione ma un portale di servizio ai territori e ai nostri rappresentanti sindacali aziendali proprio come strumento effettivo per fare queste cose. E l'ultima cosa su cui si è caratterizzata l'attività è il progetto di proselitismo complessivo della regione Lombardia attraverso il quale la FIBA regionale vuole dare un contributo forte ai territori e alle aziende quindi mettendo un'integrazione fra le strutture territoriali e le strutture aziendali per realizzare il massimo di azione comune di proselitismo nella regione Lombardia. Un 2012 sicuramente molto impegnativo per le banche, per i gruppi bancari, per il paese. Ecco pertanto Marino anche dal punto di vista per esempio della formazione per qualificare meglio i dirigenti sindacali ecco l'organizzativo che contributo può dare per questo 2012? Allora in FIBA Lombardia esistono due dipartimenti, il dipartimento formazione e il dipartimento organizzativo. Il dipartimento formazione ormai da lunga data è il dipartimento titolato a sviluppare i progetti e a gestire i progetti di formazione in particolare la formazione di base e la formazione poi dei dirigenti sindacali eccetera. Il dipartimento organizzativo in collaborazione col dipartimento formazione ha gestito e gestisce e gestirà la formazione tecnica a carattere fiscale, previdenziale e di consumerismo. Questi sono i tre aspetti su cui abbiamo lavorato e in particolare visto il momento sulla questione previdenziale già stiamo predisponendo un modulo per i dirigenti sindacali Lombardi proprio sulla riforma previdenziale non appena questa sarà approvata. L'ultima domanda Marino, siamo in un contesto e ospitati da una comunità francescana pertanto Francesco, comunità francescana vuol dire speranza ecco. Quale speranza dunque per il 2012 per la FIBA e per i nostri gruppi bancari e per il Paese? Siamo in questo convento anche per un'altra ragione perché la FIBA Lombardia insieme alla FILCA, alla FIBA nazionale e alla CISL ha lavorato, sta lavorando e lavorerà molto sul progetto di legalità che è il progetto San Francesco. Un messaggio di speranza a mio avviso può essere questo. In un momento così difficile per il Paese in generale, così difficile per la categoria con un contratto che si fa molta fatica come dire a trovare la quadra per poter rinnovare credo che il messaggio di speranza sia quello che così come sempre come CISL e come FIBA abbiamo fatto mettere davanti le problematiche comuni, sociali, economiche, generali deve essere come dire la nostra visione e in particolare io spero che il lavoro possa arrivare a dare un contributo forte all'occupazione in particolare giovanile che davvero è il problema più grosso di questo Paese. Grazie, era con noi Marino Perotta che è responsabile organizzativo della FIBA CISL della Regione Lombardia. Grazie a voi per l'ascolto.